Brutte notizie dalla città in preda al panico. Gli animali sono diventati selvaggi, siamo al sicuro! Questa è la priorità numero uno, OPS, ausiliare del traffico. Il personaggio lo conosci, è il sindaco di questa città di animali, lo vedi, lui è un leone. Il leone, poi anche il leone come animale, proprio affascinante, c'è poco da fare, proprio sei sempre lì ad ammirarlo e lui lo sa e io lo so. Come sindaco di Zootropolis, sono fiero di annunciare che la mia iniziativa di integrazione mammifera ha portato alla promozione di una cadetta che si è distinta nel suo corso diventando il primo agente coniglio di Zootropolis, Judy Ops. Pronto a lottare per la giustizia? Mi diverte molto l'animazione, mi fa sentire effettivamente l'età che ho, sei anni e me. Non importa a quale specie appartegniate, il cambiamento parte da voi. Andiamo! Di chi è l'auto? Del temutissimo criminale Mr. Big! Vi aspetto il 18 febbraio al cinema con Zootropolis. Questa era proprio... Perfetta! Ce l'hai? Questa l'hai incisa? Sì, ce l'ho. Questa ce l'hai e è andata, perfetta. Non perdetevi tutte le curiosità sulla pagina Facebook Zootropolis IT. Try everything... Grazie. Grazie.